Mendi, Rico e Poccio moriranno tutti o forse no Porco di... Ma perché? Cazzo, eh, a me Io comunque siccome avete già visto la intro o niente ho già attivato l'audio del sistema Non dico male Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Avete già visto che cosa abbiamo combinato Esatto Quello era solamente un assaggio perché appunto finalmente devo sbloccare Macy Sono troppo, troppo, troppo in ritardo E mo che arriva l'estate ho paura di fermarmi un'altra volta come feci con Otis E fare il suo errore E io spero che non succederebbe Come hai detto Basterà vincere altre due battaglie in KO e non morire per side out Facendo poi danni con Corvo e un'altra soglia E' fatta Ecco Di nuovo? Per la quarta volta Mi abbiamo beccato sempre i bot Ragazzi, off camera abbiamo beccato i bot e anche adesso Sempre i bot Quindi se noi non cambiamo team continueremo così Tra l'altro questo dovrebbe essere un cuore Ok, io ho pushato Perché sono imbecille E vabbè, contro i bot però mi posso buttare Anch'io Ops Solo contro i bot mi posso buttare Perché non mi hanno malattica? Ehi, contro i bot però manco li becchi Eh, cosa ho fatto? Molto bene E se non c'è il momento saliente E mettere una kill a caso Se nessuno fa kill C'è arrivata la tempesta e moriamo tutti Il momento del saliente l'ha fatta la tempesta No, io muoio E' un robot Immagino Tra l'altro, ragazzi, non so quante volte ho detto Questo fatto del robot Ma voi sapete che esiste Vi metto uno screen Chi lo riconosce è un grande Allora Per fortuna che stiamo facendo un video contro i bot Quindi dovremmo fare le scintille E invece ci stanno comunque tenendo testa Perché noi siamo delle teste di casa E vabbè E vediamo quanto è il bot Dai, giura Sto a provare Abbiamo perso quanto è il bot E altri bot Stavolta però Mendy, Rico e Pocho Mendy, Rico e Pocho Moriranno tutti O forse no Porco di Adesso eseguirò un salto Cosa vuoi eseguire? Eseguirò un salto Dai, Enzo, sei un bot Enzo, ma di momento sa niente Perché siamo scarsi Allora, sempre i bot Pure noi abbiamo RT Patrol Che si chiama Cucucu Cucu Chi è? È Mamd La grande bucchia Talvolta perdiamo contro i bot Giusto? Stiamo per eseguire un salto Punti energia Punti energia Manca sempre meno Per sbloccare Maisy La Bro Anzi Vogliamo chiamarla in qualche modo La Bro Non fotene le kill E non fotene i danni Quindi stai Non gioco Non gioco Cancella l'account Quindi non gioco Cancella l'account Mi sono perte i piedi Io non gioco Guardi là Vorrei eseguire un salto Sono morto Sono Dio Sono morto E' effetto Guarda che hai fatto Mi teletrasporto Mi ha occhi in casa Ok ce l'ho fatta Quindi adesso Andiamo a sbloccare la Bro Però c'è un problema Non vorrei ricordarmi malamente Ma una cosa del genere Accade nel video di Mandy Allora C'è stato Quanto il problema di percorso Ho fatto i calcoli male Non doveva venire C'è stato qualche Piccolo problema Questo non era calcolato Ma perché? Gas Eh vabbè Gas ma sei Eh vabbè Eh vabbè Gas ti prego Eh vabbè Stavo Eh vabbè Eh niente Finita Ora Possiamo sbloccarci La Bro Molto in ritardo Abbiamo sbloccato la Bro Ma eccola Oh Macy Bella Fortissima tra l'altro Perché è un Broder Fortissimo Sgravato Potente E tra l'altro L'ho selezionata Ma io devo ancora cliccarla Ma adesso Direi di potenziare Leggermente Macy Molto bene Almeno a noi ce l'abbiamo Ora I gadget Nella Star Power Ci sono già entrambi Scosse di assestamento Che secondo me È buono E vado Di razzo spietato Poi se serve questo Lo compro La Star Power Io mi tengo la seconda Ed eccola qui Però vabbè che mi vuoto Anche qua Aspetta Vedi No E va bene Ok ma perché Non devo fare Che colpe è lento All'inizio E vabbè Per distinguerla Da Brock Ma non ha senso Ora Adesso Se lo colpisco Bull è rallentato E poi lo distruggo Togliamo di mezzo Anche Nita Vediamo il gadget Ah il gadget È uguale All'attacco di Colette Almeno torno In record Perché ho perso Comunque un 400 coppe Anche solo con 20 brolle Comunque ne ho perse parecchie Quindi ci vediamo alla prossima Ciao ok Ciao